Si riduce ancora nel centro storico di Norcia la zona rossa creata in seguito alla forte scossa di terremoto del 30 ottobre scorso. Il sindaco Alemanno ha firmato una nuova ordinanza cui dichiara percorribili altre vie e piazza del centro storico. In particolare tornano a disposizione dei cittadini e dei visitatori via Cesare Battisti, via Renzi, parte di piazza Garibaldi, parte di piazza Duomo e si allarga ancora la porzione agibile di piazza San Benedetto. All'interno del centro storico di Norcia sono già molte le strade restituite alla gente e tante sono le attività commerciali, in particolare negozi, riprodotti tipici, ristoranti, bar e hotel Seneca. Fuori dalle mura proseguono intanto i vari lavori per la realizzazione dei moduli abitativi da consegnare agli sfollati. Al momento sono state consegnate già 101 casette. Entro l'estate saranno realizzate tutte le 500 previste.